Queste sono le nuove La Sportiva Prodigio, ovvero le scarpe che dovrebbero rappresentare una svolta per la casa di Ziano di Fiemme. Sarà veramente così? Scopriamolo insieme all'interno dell'Arcensone Completa. Iniziamo subito dalla suola di queste La Sportiva Prodigio, perché qua si va nel segno della continuità. Ovvero troviamo una suola Frixion Red, che conosciamo perché abbiamo già visto su tante altre scarpe di casa La Sportiva. Una suola che, devo dire, ha un ottimo grip su tutto quello che è la parte di asciutto, sterrato, single track, roccia, non ha nessun problema. Quando iniziamo a trovare la roccia bagnata, già lì dipende un attimo il tipo di roccia che troviamo, perché se è particolarmente liscia, allora non tiene tanto. Il punto dove magari soffre più questa prodigio è sul fango, perché avendo una forma di un tassello che non è proprio l'ideale per il fango, ecco che lì si scivola un po'. I tasselli in sé poi sono alti 4 mm e soprattutto quello che è l'aspetto particolare di questa suola è che possiamo vederla composta in due parti. Una parte proprio Frixion Red, ovvero quella dell'avampiede, dove vogliamo avere il maggior grip possibile. E una parte invece sul tallone un pochino più dura, un pochino più resistente, un pochino più pensata anche per essere durevole nel tempo. Una combinazione che comunque, devo dire, gli dà un buon grip, ma anche una buona continuità nel tempo. Parlando invece dell'intersuola, qui troviamo la prima grande novità di questo prodigio, perché troviamo un nuovo intersuola chiamato X-Flow. Non è altro in pratica che un'intersuola in eva con dell'azoto infuso all'interno. Un'intersuola completamente nuovo che va a garantire tantissima reattività. Vi assicuro che con questo intersuola praticamente potremo correre anche a 4 km senza nessun problema. Davvero tanto tanto reattivo, ma anche molto ammortizzante, perché con queste prodigio potremo farci benissimo anche delle corse di ultra trail. Nel particolare poi parliamo di un'altezza di 34 mm in tallone, 28 sull'avampiede con un drop di 6 mm. E l'aspetto che più mi è piaciuto di queste prodigio è che continuano a dare una gran reattività anche nel tempo. Molte volte quando si parla di scarpe di trail running, soprattutto sulle ultra, magari si parla di scarpe che dopo qualche ora di corsa tendono un po' ad afflosciarsi. Non è il caso di queste prodigio, perché potremo continuare a correrci davvero per tantissime ore senza avere problemi che la scarpa tenda a scaricarsi. L'altro aspetto dell'intersuola che mi è piaciuto particolarmente è che troviamo anche una piastra nella parte inferiore che svolge due funzioni. La prima è quella di andare a proteggerci da eventuali spuntoni di rocce che andiamo a trovare sul nostro sentiero. Passando invece alla parte superiore della tomaia, inizio dal puntale, perché qui troviamo un puntale abbastanza destrutturato. Un puntale che bisogna un po' fare attenzione perché se prendiamo dentro qualche roccia o qualche radice, ecco che magari possiamo farci male alle punte dei piedi. Per quanto riguarda invece la tomaia, qui una tomaia completamente nuova che è leggerissima. Vi assicuro è davvero, davvero leggera. Questo lo si sente sia calzandola quando poi andiamo a correre, sia quando andiamo magari in giornate veramente calde e sentiamo che il piede all'interno rimane molto fresco. Non abbiamo problemi di sudorazione, non abbiamo problemi di eventuali umidità all'interno della scarpa perché vi assicuro che sono veramente tanto tanto traspiranti. Tutta la parte di tallone invece è molto strutturata. Qui troviamo un tallone bello strutturato che ci garantisce un'ottima stabilità. Un tallone poi comunque con una imbottitura abbastanza minimal, come allo stesso modo è minimal anche la linguetta. Una linguetta che comunque ci permetterà di avere un ottimo isolamento dai lacci e questi lacci sono molto semplici. Però insieme a tutta la struttura di linguetta e tomaia, ovvero quella che la sportiva chiama la parte di wrapping system, vi assicuro che questa scarpa calza veramente come un calzino. Cioè noi la andiamo a indossare, stringiamo i lacci e il piede all'interno non si muove mai, ma mai né a ritmi alti né su terreni particolarmente sconnessi. Anzi vi dirò di più, a me piace molto stringere le scarpe proprio tanto per avere il piede bello fermo. Fate molta attenzione a stringerlo troppo perché se vi succede come è successo a me, rischiate quasi di farvi un laccio mostatico sul piede, talmente è ben fasciante. Quindi da questo punto di vista una parte di allacciatura è davvero studiata molto molto bene. Parlando invece di avampiede, qui troviamo un avampiede abbastanza largo, quel classico avampiede che ospita un piede anche abbastanza gonfiato quando andiamo a fare delle corse di ultra trail. Quindi da questo punto di vista sicuramente molto apprezzato per chi sta fuori magari tante ore o addirittura giorni. Arriviamo dunque a capire a chi consiglio questa e la sportiva Prodigio e dove utilizzarle. Io le consiglio praticamente un po' a tutti. Da quelle trail runner magari un pochino più principiante che cerca una scarpa ben ammortizzante, soprattutto un trail runner che magari tende ad appoggiare di tallone. Va molto bene perché poi la geometria rocker fa sì che noi avremo un'ottima rullata fino alla spinta. E anche un trail runner invece molto evoluto, un trail runner che corre veloce, che ha bisogno di una scarpa veramente molto reattiva. Per quanto riguarda le distanze diciamo che ci farei tranquillamente anche una 100 miglia senza nessun problema. Dove magari fare un pochino di attenzione è sul tipo di terreno. Come vi dicevo una scarpa che a livello di grip tiene molto bene, evitiamo magari di usarla se sono giornati di pioggia appena finito di piovere, però è una scarpa che utilizzerei comunque su un terreno abbastanza semplice. Non andrei a fare nulla di troppo sconnesso, nulla di troppo roccioso, sia perché la scarpa non è pensata per quello, sia perché quando troviamo qualcosa di molto roccioso, ecco che magari non è proprio così stabile per quel tipo di terreno. Però per tutto quello che riguarda invece la corsa su terreni medio semplici, ecco che comunque la stabilità non è sicuramente un problema. Arriviamo dunque alle conclusioni per questa è la sportiva Prodigio, iniziamo dal prezzo perché la sportiva le vende a 160€, l'Ale si trova già a qualcosa meno. Ve le consiglio? Assolutamente sì, perché queste Prodigio sono veramente una rivoluzione in casa la sportiva. Una scarpa che pesa 270 grammi nella taglia 42 uomo, è una scarpa che sicuramente da oggi in poi rappresenterà un nuovo punto di partenza per la casa al DFM. Una scarpa dal quale personalmente penso che vedremo tante altre nuove soluzioni nel corso dei prossimi anni. E detto ciò ragazzi, in una speranza sia stato esauramente sostitivo anche per questa recensione, vi ringrazio per la guardata e noi ci vediamo alla prossima. Ciao! Ciao!